Gianluca Formicone nella leggenda delle bocce, neocampione del mondo, specialità raffa, lo scorso 10 marzo emozioni davvero indescrivibili in Argentina. L'unico titolo che mancava al ricchissimo, anzi infinito palmarès del 47enne di Notaresco. Ma il cerchio non si è affatto chiuso perché gli stimoli sono ancora tantissimi. Il computer, così come lo chiamano nell'ambiente per la grande precisione del suo gioco, si è raccontato ai nostri microfoni e proprio il caso di dire a bocce ferme. A casa del campione del mondo Gianluca Formicone, soprattutto complimenti. Grazie, è stata una bellissima vittoria, coronata una carriera che avevo questo neo nella mia carriera perché avendo vinto di tutto, tutti i mondiali europei. Il neo si fa per dire. Sì, è una ciliegina sulla torta che mancava, ho coronato anche questo mio sogno, questa vittoria. Adesso penso di aver vinto tutto, adesso sarà difficile trovare stimoli per andare avanti, però qualcosa inventeremo. Praticamente le coppe e i trofei cominciano dall'ingresso, cioè non c'è più lo spazio. Mettono in balcone, ci mettono i fiori come portavasi. Hai perso il conto. Sì, ho iniziato a giocare dall'età di sette anni, una carriera molto lunga, poi piena di vittorie. Diciamo che non sono tutte qui i miei trofei, le mie vittorie perché anche a casa dei miei li ho lasciati lì per ricordo. Ma com'è nata questa passione? Tu giochi da quando avevi sette anni, naturalmente passione trasmessa dal caro papà che purtroppo è deceduto di recente insieme con la mamma. Sì, avevo il bocciodromo vicino a casa, io con le mie bocce di legno ogni giorno giocavo dietro a casa mia, dietro a una stradina, poi piano piano avevo mio padre che giocava, un giorno sono andato lì al bocciodromo portando queste mie bocce di legno. Quando sono andato lì non mi volevano far giocare con queste bocce, allora ho iniziato a giocare con le bocce sintetiche e da lì ho visto che avevo qualcosino da mettere in atto. Poi piano piano ho cominciato con la passione, andando dietro a mio padre che giocava, a un certo punto ha iniziato lui a venire dietro di me perché lui ha smesso per portarmi in giro a giocare perché ha visto che ero abbastanza bravo e da lì è nato tutto. Poi piano piano strada facendo ho visto che avevo le doti e le qualità per arrivare. 40 anni di successo, insomma i risultati sono piuttosto eloquenti, tra l'altro ti abbiamo visto commosso a fine gara proprio lo scorso 10 marzo quando hai lasciato le briciole al tuo avversario, al tuo rivale, il peruviano Palomino, un pianto liberatorio a microfoni accesi con un collega sudamericano. Hai ricordato giustamente mamma e papà? Sì, guarda io dopo che ho messo la bocce del 12 della vittoria è calato il sipario, non ho visto più niente, sono crollato emotivamente e tutto. Ricordando mio padre e mia mamma che se fossero stati lì con me avrebbero risultato insieme a me, ma io li portavo dentro di me e forse sono stati loro che mi hanno aiutato a coronare questo mio sogno che mancava. Sicuramente loro mi hanno dato tanto, tanto coraggio e tanta forza. Un titolo mondiale che in Italia tardava ad arrivare da 18 anni, è arrivato tra l'altro in Abruzzo, terra fertile, ma soprattutto Teramo, una terra fertile per le bocce. Sì, questo è un titolo che mancava dal 2001 quando in Francia a Cheven lo vinse Benedetti, Emiliano di Roma. Ho provato io, ho perso una finale negli Stati Uniti a Detroit contro lo Svizzero Bianchi, perso una finale memorabile durata 5 ore che rimarrà nella storia. Poi ho perso una semifinale con Natale a Roma nel 2010, poi in un anno non ho partecipato e finalmente ora ho riportato questo titolo in Italia che mancava da 18 anni. Non ti vuoi fermare? No, no, no. Il fatto che ho vinto per 40 anni, che vengo sempre, ho qualcosa dentro che è difficile da spiegare. Ho sempre fame di vittorie. La prima vittoria è come se fosse la prima. Poi qui a Teramo, non so perché, ma tutti i più grandi sono nati e sono qui a Teramo. Ricordando D'Alessandro, Scacchioli, adesso io, ho avuto il piacere di giocare l'onore, di giocare con loro, dove sicuramente ho imparato anche tanto. Teramo, capitale del mondo, capitale del mondo delle bocce. Assolutamente, c'è un DNA particolare evidentemente a Teramo. Tra l'altro soltanto sei punti agli avversari, ai rivali, dai quarti in poi. Infatti, effettivamente, mentre nelle eliminatorie, diciamo che ho giocao bene, ma sono andato increscendo. Arrivando ai quarti di finale, che lì era eliminazione diretta, ecco la partita a tempo un'ora. Ho vinto tutte, ho fatto i quarti di finale contro il ragazzo di San Marino dell'Olmo, che era medaglia d'oro dei giochi di Mediterraneo di Tarragona dell'anno scorso. Battuto 12 a 0. Poi in semifinale, come se è botto, l'americano, che anche lui è vice campione del mondo. E anche lì 12 a 4, credo che è finita. La finale col peruviano, una sorpresa, perché non aspettavamo lui di certo in finale. Però è stata una sorpresa gradita. Anche lì, lui fino all'inizio ha tenuto botta un attimino, poi ha mollato, sì. Perché io andavo come un treno. Non vedevo solo l'arrivo e ero concentrato lì. Non ce n'era per nessuno. Forse l'ostacolo più duro dal punto di vista psicologico è stato quello di prevalere sull'austriaco, che ti aveva creato qualche problema, tra virgolette, nel 2010. Sì, effettivamente è stata la partita un po' più difficile avere un nervoso. Perché avevo un conto in sospeso con lui, mi aveva battuto qui in casa, in Italia. Io l'avevo sempre battuto in qualsiasi altra competizione, europei, altri mondiali, sempre battuto. L'unica volta che ho perso con lui ho perso una semifinale mondiale. E questa è stata una partita un po' più sui nervi che sul... Diciamo che alla fine l'ho spuntata, anche se è finita il 10 a 9. Lì sono stato bravo a tenere la calma. Non era facile, io ci sono riuscito. Curiosità, in Brasile questo signore è chiamato da tutti il Pelé della Boccia. Il Pelé della Boccia, sì. Per loro, stando a loro, io sono il Pelé della Boccia per loro. In Sud America sono un idolo per loro. E questa è una cosa che a me fa immensamente piacere. Cioè, quanto... Anche perché per i brasiliani Pelé è un dio. Sì, Pelé è un dio, perciò per me è solo un onore. Con l'avvento dei campi sintetici si è innalzato e cresciuto sensibilmente il livello del gioco. Perché? Sì, il livello meglio si è alzato. Perché tutti quanti con i campi sintetici... Mentre prima sul campo in terra prevaleva il fuoriclasse, perché non tutti erano capaci di giocare, bocciare. Sai, col campo faceva la buca. Adesso col campo sintetico, quando tiri la boccia va dritta. Se la tiri dritta va dritta. Anche una persona un po' più anziana, che ha meno forza, però se la tiri dritta... Perciò il livello si è alzato molto e è diventato più difficile vincere. Oggi vai a giocare e puoi perdere con chiunque. Devi stare sempre in allerta dalla prima partita fino all'ultimo. E qual è la caratteristica peculiare per chi arriva in alto, che vuole arrivare in alto? Insomma, la concentrazione soprattutto? Concentrazione ma la costanza. Adesso il colpo del campione può essere anche di meno, però la costanza ci vuole. Non fare quegli errori grossolani che ti possono far pagare tanti punti in una mano. Ecco, per esempio, ho letto con grande interesse una tua recente intervista, rilasciata proprio al collega Rapone del quotidiano del centro. Perché tu dici testualmente, in questo sport, sicura negli ultimi anni, molto di più la preparazione fisica. Perché noi iniziamo alla mattina alle 9, ci sono anche gare dove partecipano 300-400 giocatori, 200, lì è eliminazione diretta, tu inizi alle 9 del mattino e finisci alle 7, alle 8 di sera. C'è una gara che fanno a Modena, che è la gara con più partecipanti di tutti, una gara internazionale a Budrione, provincia di Modena, che partecipano a mille giocatori. Inizia alle 9 del mattino e finisci alle 11, mezzanotte, la sera. E lì giochi di continuo. E se non sei allenato... Quindi diciamo che è un dispendio di energia, non solo psichico, ma anche fisico. Stando bene fisicamente ti aiuta anche a stare bene di mente, capito? La mente, se tu stai bene e non hai problemi fisici, la mente è anche più serena, tranquilla, più lucida. E poi tu sei uno dei più anziani, tra virgolette, no? Sì, sì, sono uno dei più anziani. L'età meglio si è abbassata di tanto nelle bocce. Sono tutti i ragazzi, adesso stanno arrivando dei ragazzi che sono veramente bravi. E stare alla pari con loro... Hai dato la paga a tutti. Sì, perciò bisogna allenarsi ancora di più per essere alla pari con loro. Sì, sì, perché non aspettano altro che batterci. Senti, ma la tua settimana tipo, come si sviluppa? Allora, lunedì recupero. Anche se vado spesso in palestra, lunedì, quando torno... Perché io il venerdì, sabato e domenica sono sempre fuori per gioco. Perché io gioco con una squadra di Milano, la caccialanza di Milano. C'ho il weekend sempre all'insegna, in giro per l'Italia. Sì, tornando la domenica notte, lunedì sei sempre un po' frastornato. Da chilometri, giocare, spostamenti vari, mi riposo. Siamo lunedì, vado un po' in palestra, forse per scaricarmi anche un po' di più. Poi dal martedì inizio ad allenarmi un paio di volte a settimana con le bocce e un paio di volte a settimana in palestra. Insomma, comunque la settimana piena. Poi il venerdì si riparte e è finita la settimana. Con gli affetti come fanno? Sì, vabbè, durante il giorno ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. La signora che diceva, la signora Sonia, credo. La signora Sonia, signora Sonia. E anche i due figli, Loris e Alessio, di 14 e 12 anni. Loro non giocano, non hanno voluto seguire le mie orme, però va bene così. Però hanno fatto un tifo incessante. Sicuramente, mi hanno fatto anche una festa sorpresa quando sono tornato e mi hanno fatto commuovere, sì, mi hanno fatto commuovere. Mi aspettavano tutti nascosti, sono arrivati amici miei da Verona, da Ferrara pure, la sera che sono tornato, loro senza dormire sono ripartiti. Questo è un affetto che... Beh, il massimo della gratificazione. Tra l'altro, da poco ci sarà anche la cerimonia organizzata dall'amministrazione. Dal sindaco, sì, sarà fatta il mercoledì 17 aprile in piazza, qui a Notaresco, sì. Verrò festeggiato, è un onore perché tutti i titoli che ho vinto, questo secondo me è quello più sentito, ma non solo per me, anche per i cittadini, tutti. È stata la classica ciliegina, ma prima di partire, vabbè, tu sei molto determinato e si capisce dallo sguardo, è chiaro che però sono passati tanti anni senza vincere il titolo più importante, ecco, ti pesava questo dal punto di vista psicologico? Questa è stata una mia forza, perché io prima di partire, sì, un po' pensi, perché pensi, è normale che il pensiero ti va lì, però quando ero lì, la cosa che più mi ha, ma stupita di me, no, stupita, che più mi è piaciuta di me, che io quando entravo in campo dimenticavo tu, ero sereno, ero sereno, e quando io sono sereno ce n'è poco, per gli altri. Quindi sei stato freddo, genio. Sono stato freddo, io, la cosa più dura è stata il momento di arrivare alla partita, i tempi morti, devo ringraziare i miei amici che sono venuti con me, i tre miei amici di Bergamo, che sono, guarda, loro mi hanno aiutato in tanto, sì, dire anche una cavolata al di fuori, sai, non pensare sempre alla partita, cosa stavo facendo, e quando arrivavo in campo alla partita ero tranquillo, sereno. Imperturbabile, l'arma vincente, perché ti ha dato proprio il quid per andare avanti e per vincere il titolo. Tra l'altro stavo vedendo con grande interesse, guardando con grande interesse che c'è insomma un fan club, un fan club di Salerno. Provincia di Salerno, sì, questi hanno fatto un fan club, sono veramente fantastici, l'ha inaugurato 3-4 anni fa, con me è partito un progetto che loro non avevano neanche il bocciodromo, adesso in tre anni l'amministrazione ha fatto anche il bocciodromo a loro, e loro adesso tra poco dovrò andare a inaugurare questo nuovo bocciodromo a Sassano, provincia di Salerno. Un ulteriore motivo di soddisfazione, perché metti d'accordo tutti. Trovare gente che ti vuole bene al di fuori, anche quando sei in giro, è una bella cosa. Forse noi dovremmo fare un po' di più noi della stampa, perché io devo essere sincero, ti chiedo anche scusa, non sapevo neanche quasi che esistesse. No, no, dovremmo fare qualcosa. Sì, perché guarda, è uno sport bellissimo, è un gioco che se lo vivi ti appassiona, ti appassiona. Poi vedevo anche il primo titolo, qualcosa del genere, nel 1981, 38 anni fa. 38 anni fa, a Pescara mi pare. Nel 1982 ho fatto il mio primo campionato italiano e sono arrivato in semifinale. Da lì è iniziata la mia ascesa. Quindi già si vedeva lì la stoppa. Sì, sì, già ero tremendo lì come carattere, già avevo un carattere duro, vincente, da ragazzino. Questo mi ha aiutato molto nella mia carriera boccistica. Guarda, io ti faccio i complimenti che non sono iprammatica ma assolutamente sinceri. Tra l'altro stai per organizzare, organizzerà il prossimo turno il secondo Memorial in ricordo dei tuoi genitori. I miei genitori, sì, che si svolgeranno nei campi del Bocciolmo Comunale di Roseto. Sarà una bella festa, due giorni dove saranno maggiori giocatori a livello italiano. Sai che ti hanno dato la spinta decisiva, sì? Sì, sì, loro stavano sotto con me, dentro con me stavano. Sicuramente sono stati loro che mi hanno accompagnato. Grazie e complimenti. Grazie, grazie.